Per me è un grande orgoglio partecipare a questo workshop, a questo progetto organizzato da Felcos. Concretamente il Comune di Orvieto, nella persona del mio assessorato alla pubblica istruzione e anche alle politiche sociali, sto portando avanti un progetto concreto contro lo spreco alimentare. Insieme al nuovo gestore delle menze nelle scuole, degli istituti comprensivi del Comune di Orvieto, stiamo tentando di mettere in pratica, ovviamente nei limiti di quelle che sono le leggi ancora nazionali, purtroppo che impongono delle condizioni particolarmente gravose e costose, un progetto concreto contro lo spreco alimentare. Quindi abbiamo preso contatti con la cooperativa del territorio che si occupa del riutilizzo del cibo in esubero, anche per quanto riguarda il cibo fresco e speriamo di poter portare avanti questo progetto concretamente anche nell'ambito di cose più piccole come può essere quella di sostenere il canile del territorio di Orvieto che costa al Comune parecchi soldi a tutti gli anni.